Oggi l'interrogatorio a Chieti di convalida dei domiciliari della nuora di 53 anni con le accuse di sequestro di persona nei confronti della suocera 85enne dinanzi al GIP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis. La donna è stata trovata incatenata a letto dai carabinieri di Ortona dopo una segnalazione, due gli indagati oltre alla nuora ai domiciliari, indagato anche il figlio di 59 anni, sempre per le medesime accuse. Secondo la difesa e i familiari, i due accudivano l'anziana ma quando la lasciavano sola erano costretti a legarla a letto perché l'Alzheimer di cui soffre la rende pericolosa anche per se stessa. Ora è ricoverata a Ortona ma sta bene, mentre il GIP si è riservato di decidere entro domani a mezzogiorno sulla convalida dei domiciliari della nuora. Abbiamo chiesto all'avvocato della difesa Rocco Gian Cristofaro se la sua assistita ha parlato e quali motivazioni ha addotto. Ha spiegato come stavano i fatti, qual era la ragione per la quale la nonnina veniva legata a letto, assicurata a letto, ovvero per evitare che si facesse del male come è già accaduto. Perché la signora ha dei cosiddetti delucidi intervalli, cioè sono dei momenti in cui capisce, sta bene, risponde alle domande e c'è dei momenti in cui purtroppo a causa proprio della malattia dà in escandescenza, quindi lancia oggetti, lancia oggetti dalla finestra, si toglie il catetere, poi nella foga cade, si fa male, si è rotta il femore, si è fatta male alla testa. Quindi nei momenti in cui in una famiglia una persona ha necessità di allontanarsi un attimino lasciandola da sola, l'assicuravano a letto in modo tale che non si potesse muovere. E da quel momento, ma stiamo parlando di circa due mesi, non è accaduto più nulla. Perché le accuse sono pesanti? Certo, sì, molto pesanti. Una conoscente della famiglia ci dice Assolutamente no, non era assolutamente abbandonata, lei stava sopra soltanto quando si voleva riposare e siccome non stava bene di testa, l'ha dovuto legare perché cadeva e si faceva male e poi buttava tutti i tegami, tutta la roba per terra per tenerla tranquilla al momento in cui dorme, perché non gli ha mai dato per dormire. Le cose per la testa perché ha problemi al cuore, i battiti cardiaci bassi e dando quello era come un vegetale. Lei soffriva di Alzheimer questa signora? Sì, e non solo. Aveva tanti tanti problemi, capito? Dunque, iiii, iiii, come parola? Le caviglie legate, il posto legato. Perché lei l'altra settimana, due settimane fa è caduta e si è fatta male e l'unico modo è che quando sta a dormire non se ne va e dopo se ne va di casa, esce e se lo trovi in mezzo alla strada che fai. Come sta la signora adesso? Sta bene, chiama a continuazione la famiglia e vuole stare insieme alla famiglia. Vorrebbe donare a casa? Sì, non ha senso sta cosa, sì. Vuole stare con la famiglia. Cioè tu consideri che all'ospedale hanno legata lei perché non si poteva tenere? Allora io ho sentito questa cosa però fatemi indagare, fatemi vedere. La signora quando dà in escandescenza è fortissima. Grazie.